Siamo ad Europa nella bellissima e suggestiva cornice dell'omonimo santuario per il 17esimo seminario dell'anno Domini Multifestival. Dal 30 giugno al 3 luglio qui a Europa convergono come ogni anno artisti di ispirazione cristiana che arrivano da tutto il mondo. Nel corso di questi tre giorni gli artisti che convergono a Europa mettono a disposizione di tutti i partecipanti la propria arte, la propria esperienza, la propria professionalità. Tra i vari workshop troviamo quello di canto, di arti grafiche visive, danza, animazione e canto gospel. E vengono qui per confrontarsi sul piano artistico e spirituale e per trovare anche nuova ispirazione per il loro lavoro di evangelizzazione. Ho venuto al festival Anno Domini per 4 anni. Ho sempre trovato di essere molto ispirazione, molto motivazione. E venire a questo posto in Europa è un posto di pazza, tranquillità e libertà. La esperienza di questo Multifestival è assolutamente meravigliosa. È un incontro di artisti di diverse disciplina che si trovano in un mismo spirito, in un sito meraviglioso e tutti in busca di la verità che si trovano nel coraggio di Dio. Multifestival, che dire, è una garanzia. Io lo conosco da tanti anni. Sono venuto quest'anno a presentare il mio nuovo disco Mare Dentro Live. Conosco Aurelio che gestisce e organizza da tanti anni questo bellissimo incontro con artisti da tutto il mondo. C'è tanta qualità, tanta passione, tanta fede e tanti talenti umani. Sono felice di essere qui quest'anno e sicuramente ci ritornerò se continuerà il Multifestival. Vi abbraccio e a presto. Chissà chi sto momento, però che penso, che fai? Tu mi misi sull'intervene. Non è la che dolce, se mi pesa sta croce. Non è la che dolce, non è la che dolce, non è la che dolce. Non è il mio tutto, non è il mio tutto. Non è la che dolce, non è il mio tutto. Grazie per la visione!